In 78 pronti a darsi battaglia per conquistare uno scranno a Sala d'Ercole. 14 le liste in corso nelle collegio di Agrigento al quale sono stati assegnati i sei seggi, uno in meno rispetto alla passata legislatura che disponeva però di un parco inquilini più ampio, 90. Adesso saranno 70. E' scaduto ieri pomeriggio alle 16 il termine ultimo per la presentazione all'ufficio circostruzionale del Tribunale di Via Mazzini dei simboli delle candidature per le regionali del prossimo 5 novembre. Tutti gli uscenti in campo decise a riprovarci. Giovanni Panipinto, ex sindaco di Bivone, dentro il suo PD, ma dovrà fare i conti con Mariella Lobello, attuale assessore regionale che ha trovato posto all'ultimo momento dopo che Crocetta, avendo siglato l'accordo, ha ritirato dalla competizione il megafono. A farle posta è stata Chetti Laporte che era stata indicata da Maria Iacono. Altra candidatura pesante è quella del saccense Michele Catanzaro. Roberto Di Mauro, oltre ad essere inserito nell'estino di Musumeci, è candidato nella lista popolare e autonomisti in compagnia, tra gli altri, dell'ex rettore Roberto Lagalla, dell'elicatese Carmelo Pullare, dirigente sanitario, e dell'ex sindaco di Chenecattì Vincenzo Corbo. In alternativa popolare, cioè il partito di Angelino Alfano, che sostiene Micari, ritenta la conferma Vincenzo Fontana, ma la concorrenza è spietata. Le insidie si chiamano Giuseppe Marinello, attuale senatore, e il canecattinese Giancarlo Granata, ex parlamentare. E veniamo all'Udc di Cesa, anche qui concorrenza guerrita. Ci sono gli uscenti Margherita, la Rocca Ruvolo, che è anche sindaco di Montevago, il canecattinese Gaetano Cani, e si è giunto l'ex euro parlamentare Salvatore Iacolino. In forza tali è elezione quasi scondata, invece, per Riccardo Gallo, attuale deputato nazionale, da registrare tra gli azzurri la defizione in zona Cesarini del favorese Carmelo Vitello. Diventerà bellissimo, in lista c'è la Ravanosana Giussi Savarino, la quale occupa un posto anche nel listino di Nello Musumeci. Nel Movimento 5 Stelle figurano tra gli altri il saccense Matteo Mangiacavallo, che ha già maturato l'esperienza nella legislatura che sta per andare in archivio, e Fabrizio Lagaipa. E veniamo alla lista 100 passi per la Sicilia, Claudio Fava, presidente, qui spiccano le candidature dell'attuale consigliere comunale di Agrigento, Angela Galvano, e dell'ex sindaco di Palma di Monte Chiaro, Rosario Gallo. E in corso nel collegio di Agrigento ci sono anche le liste Noi Consalvini, Fratelli d'Italia e Sicilia Futura. La prima fa registrare le presenze della Lampedusana, Angela Maraventano, dell'ex consigliere comunale di Aula Sollano, Lillo Pisano, e dell'ex consigliere provinciale Leo Pellegrino. La seconda, quella di Sicilia Futura, dentro Michele Cimino e Salvatore Cascio, che sono entrambi uscenti, ed è il sindaco di Casteltermini, Gioacchino Nicastro. Le altre liste che partecipano alla competizione sono Arcipelago Sicilia con il presidente Micari, Siciliani Liberi, che sostiene la candidatura a presidente di Roberto Larosa, ed ancora Noi Sicilia, che spingerà il candidato presidente Francesco Paolo Busalacchi. La lista Casa Pound Sicilia, che appoggia il candidato presidente Pierluigi Reale. E lista civica per il lavoro in appoggio al candidato presidente Piero Maria Loiacono. Un altro grigiantino coinvolto è l'ex sindaco di Licata, Angelo Cambiano, già designato assessore nell'eventuale squadra di governo Cancelleri, targato Movimento 5 Stelle.